il primo tempo chiuso a reti inviolate nella ripresa siete usciti alla distanza 5 a 0 che immagino ti soddisfi dopo la prestazione dei tuoi mi soddisfa pienamente anche perché oggi eravamo rimaneggiati dopo tre tre defezioni all'ultimo all'ultimo minuto però non giustifica il fatto che il primo tempo siamo ci siamo messi dietro e abbiamo atteso il loro gioco capiti capito il secondo tempo capiti loro il secondo tempo siamo saliti e abbiamo sfruttato le occasioni avute il risultato secondo me è giusto vittoria importante siete nel gruppetto che di fatto segue le prime dalla classe ti sei fatto un'idea di quello che deve essere il vostro obiettivo soprattutto cosa serve per avvicinarvi a chi al momento al comando certo il il gap non è non è tantissimo ma qualcosina qualcosina c'è tra le squadre di di vertice e noi noi siamo una squadra che è nata e nata quest'anno è nata da da poco quindi ci stiamo ci stiamo attrezzando per per arrivare al diciamo ai vertici del della classifica qualcosina qualcosina manca non lo non lo nascondiamo però ovviamente il mercato si apre a dicembre se c'è da fare qualcosa la faremo tranquillamente e detto appunto che siete una squadra nata da poco ti chiedo la tua idea di gioco a che percentuale di quella che poi l'effettiva idea che hai è in questo momento e su cosa ti preme lavorare in settimana c'è margini di miglioramento ovviamente stiamo stiamo crescendo dall'inizio del campionato ad oggi ci sono stati fatti dei passi dei passi enormi ovviamente grazie al mio lavoro e alla dedizione dei ragazzi che sono sono splendidi mi seguono mi seguono in tutto e i risultati pian piano stanno arrivando dobbiamo migliorare soprattutto nella fase difensiva nelle ripartenze che siamo ancora deficitari però pian piano ovviamente il campionato è lungo gli obiettivi penso penso che li raggiungeremo anche perché siamo un'ottima un'ottima squadra grazie a tutti